Ciao ragazzi, pubblico questo video dal cellulare perché sono qui per illustrarvi il mio mazzo da modern, un po' perché ultimamente ne ho sentito parlare un po' alla cazzo, un po' perché ho deciso di fare questa anteprima al report della domenica, cioè quell'anteprima del venerdì. Perché? Perché stasera ho intenzione di riciclarmi per il formato modern, farmi un torneino di modern e ho portato qualche modifica al mazzo, un po' perché rivolta dell'Ether mi ha aggiunto qualche cartina carina, un po' perché dopo l'uscita di Modern Master finalmente ho le lune insanguinate. E tramite la prova sul campo sveleremo l'antico mistero se è meglio giocare un sacco di non basiche con le lune di main o se è meglio tenercele di side. So che sembra un dubbio del cazzo, però qualcuno se l'è posto e secondo me si sta anche rispondendo male, ma va bene. Iniziamo Questo è il side, lo guardiamo dopo. Iniziamo guardando che si parte con due Grim Lava Mancer. C'è chi ne gioca uno, c'è chi ne ha uno di main, uno di side, che è una cosa che a me fa venire l'orticaria e seccare i testicoli, e quindi ne ho due di main. Mi piacciono, li trovo utili, sono utili particolarmente contro mazzi agro e contro affinity. Quattro Dark Confident, che non vi spiegherò neanche perché sono qui, e poi si passa al Rubble Master. Se più o meno avete un'infarinatura di base di questo mazzo, sapete che la base del mazzo sono quattro, quattro e quattro Pack Rat. Cosa che in teoria ho seguito anche io, più o meno da sempre, da quando ho montato il mazzo. Ma oggi giocherò senza Pack Rat, perché per quanto sia una carta fortissima, è una carta anche molto dipendente dal meta e dal matchup che abbiamo. Mentre invece Confident farà sempre comunque pescare, e Rubble Master il suo lavoro, bene o male, lo fa sempre. E quindi oggi proviamo senza Topolini, ma, dopo i nazionali di quest'estate, riproviamo a main deccare due copie di Calitas. Poi abbiamo due Dures, e alla fine degli scartini vi spiegherò perché. Tre Inquisition of Kozilek e tre Ruba Pensieri. Allora, sto giocando le Dures al posto delle Collective Brutality perché perdo immancabilmente, inesorabilmente, da trono. E per quanto la Collective Brutality sia più versatile, in quanto può fare anche da rimozione e o ciucciotto, non toglie le stesse cose che Dures toglie. E quindi mi sono preso, mi sono deciso a giocare due Dures e tre e tre degli altri scartini. Due Fatal Push, aggiunti da Rivolta al Lettere. Sto partendo con due Fatal Push perché un po' so già cosa mi aspetto come meta. Un po' devo capire quanti effettivamente ha senso giocarne. E quindi due Fatal Push. Due, tre, quattro fulmini, ma questo era un po' ovvio. E per il momento ho deciso per quattro Terminate. La mia indecisione era su se fare quattro Terminate e due Push o magari tre e tre. Dipende un attimo dal meta che mi troverò stasera. Sono un po' incerto. Non uno, non due, ma bensì tre comandi di Collagan perché due mi sembra di non giocarli. Però è una carta che reputo fortissima e se mai ne troverò il modo ce ne infilerò anche quattro dentro. Perché è uno scartino rapido, più una potenziale rimozione, spacca artefatto, bla bla bla, quel che è. Tre Liliane perché purtroppo la quarta mi manca. E l'altro drop a quattro del mazzo. Chandra, la padrona del fuoco. Continuerò sempre comunque a preferire lei perché colpi uno fa attaccare diretto al Rubble Master. Lo zero mi dà un vantaggio carte anche se vabbè, insomma, niente di esagerato. Due montagne. Una, due, tre, quattro, cinque paludi per le Blood Moon. Una Mesa Arida perché volevo giocare cinque fetch. Due Shockland. Due animabili. Una, foil. Due, foil. Tre, foil. Quattro fetch, foil. Sì, mi piace vantarmi. Foil pure questa. E due Ghost Quarter. Allora, tanta gente dice... Eh, ma questo mazzo deve giocare quattro Mutavolt di main. Sì, ma è la stessa gente che mi dice anche che devi giocare quattro Blood Moon di main. C'è qualcosa che non torna nel discorso. Siamo d'accordo. Cioè, capisco che qualcuno ci avrà fatto il risultato. Però allora forse la mana base la farei un po' diversa. Goblin pucciolosi per fare i token del Rubble Master. E degli zombie, secondo me, dannatamente fighi per fare i token di Kalitas. Pit and Needle, foil, perché contro Affinity, foil rende di più. È quell'uno per che secondo me ci può stare contro Affinity, contro Trono, contro Animabili, qualora ci fosse problema, contro Planeswalker. Due di questi è la prima volta che da gioco, onestamente, però aspettandomi degli zombie ci stanno. Prima avevo tre reliquie e due aghi. Ho tolto un ago, una reliquia, perché comunque queste sono hate contro il cimitero. E con altri due Rakdos Charm, ci tengo a sottolineare che sono foil anche questi, ho sia hate per il cimitero che per gli artefatti. Queste foil per botti o comunque mazzi agro, anche se sto pensando di sostituirle con il nuovo vampiro di Rivolta dell'Ettere. Due Fulminator, due Lune, contro mazzi, tricolor e trono. E per finire, due Damnation, che contro agro e, ho già provato con i midrange, possono fare la differenza. Questa è la lista che giocherò stasera. Domenica, in teoria, c'ho anche un GP Trial per Bologna in Modern. E riporterò sempre questo mazzo. Già dal torneo di oggi spero di poter trarre con qualche conclusione. Se le partite non si concludono con un Mulligan a quattro tutte le partite o con l'altro che mi scomba di primo turno, penso di essere in grado di riuscire a ottenere qualche informazione dalle partite di oggi. Quindi potrebbero esserci delle modifiche, tipo il numero di Fatal Push, il numero di Terminate, il numero di Culligan's Command. Potrei decidere di togliere definitivamente i Drop A4 dalla main e lasciare solo le due Damnation di side come Drop A4. Potrei spostare le Blood Moon di main, anche solo per vedere cosa succede. Cioè, secondo me è una cosa oscena fare tipo quattro Mutavolt, zero Ghost Quarter e quattro Blood Moon di main. Però, se mi capiterà l'occasione, farò anche quella prova. Quindi, questo è tutto con l'anteprima del venerdì e speriamo che, insomma, vada tutto bene. Alla prossima!